Se ci sta una domanda che ci avete fatto più spesso da quando abbiamo aperto il canale questa è proprio qual è il miglior forno per qualità prezzo questa cosa devo dire che non mi sorprende perché dal mio punto di vista il 70% della qualità di una pizza dipende proprio dalla cottura che gli date la cottura è il fattore discriminante per la bontà di una pizza abbiamo provato decine e decine di forni e finalmente riusciamo a dirvi quale secondo noi è il miglior forno per qualità prezzo e ci è piaciuto così tanto che abbiamo iniziato una collab ma partiamo col video ciao a tutti ragazzi sono anni che ci chiedete qual è il miglior forno per qualità prezzo un forno che possa cuocere una pizza napoletana perfetta e che non abbia costi esagerati abbiamo fatto le nostre ricerche ci avete chiesto in molti di provare questo forno e finalmente ci siamo riusciti e vi abbiamo portato questa collaborazione perché questo qui è un vero e proprio piccolo gioiellino ma adesso ne parleremo e vedremo insieme che cosa è in grado di fare quanto costa questo forno? 270 euro e vedrete i prodotti che escono da questo forno già così com'è vi permette di realizzare delle pizze perfette non ha bisogno di veri e propri accessori ma ma non costerà 270 euro per sempre soltanto per i primi 100 forni che riusciremo a vendere ed inoltre se guardate il video fino alla fine i primi 100 che riusciranno a prendere questo forno in promozione avranno anche una sorpresa questa qui è la scatola che vi arriverà a casa all'interno questa scatola contiene soltanto il forno e uno dei due optional ragazzi prima di continuare io ci tengo a precisare che questo forno qua va utilizzato solo ed esclusivamente all'esterno come tutti i forni a gas produce monossido di carbonio e quindi se avete l'opportunità di utilizzarlo fuori casa è il forno ideale quando vi arrivi a casa arriverà ricoperto da questa pellicola protettiva e la prima cosa da fare è andare a togliere questa pellicola che altrimenti può fondersi anzi si fonde sicuramente durante la cottura quindi la togliamo è un forno essenziale la semplicità è in realtà la sua stessa forza perché è composta da pochissimi materiali abbiamo la struttura esterna che è completamente in acciaio solidissimo abbiamo un biscotto interno di casa pulla che tiene altissime temperature il biscotto li trovate praticamente in tutte le migliori pizzerie e in più abbiamo una ricca coibentazione in fibro ceramica che rende il forno molto isolato sono emozionato di mostrarvelo per la prima volta finalmente a tutti voi ma io vi dico la verità e non riesco nemmeno a far passare tutta l'emozione che ho al momento perché sono contentissimo di questa cosa finalmente c'è un forno che cuoce perfettamente e lo vedrete è una pizza napoletana che ha un prezzo accessibile veramente a chiunque all'interno della confezione trovate il rubinetto del gas e una chiave brandizzata pure questa qui forni masaniello e il montaggio è veramente semplicissimo vi basta svitare questo dado in questo modo dopodiché nella parte posteriore andate ad inserire il rubinetto e il dado che va avvitato a mano fino a che non arriva a fine corsa dopodiché con la chiave dedicata andiamo a stringere l'ultima parte a questo punto tubo del gas, fascetta e andiamo ad inserire il tubo bene fino in fondo infilato tutto quanto il tubo fino alla fine possiamo andare a stringere sul nervo la nostra fascetta una volta montati tubo e fascetta assicuratevi che il rubinetto sia completamente su close non aperto ma completamente su close in questo modo sulla bombola ovviamente andrà montato un regolatore del gas questi qui sono regolatori del gas a bassa pressione funziona con tutti quanti i regolatori italiani a bassa pressione ma il consiglio che vi diamo è quello lì di fornirvi di questo qui regolabile in modo che potete sistemare la pressione del forno come sistemare il regolatore? il consiglio del produttore è quello lì di far uscire il gas intorno ai 40-45 millibar come si fa? il regolatore completamente su meno a questo punto andiamo a effettuare 4 giri e mezzo 1, 2, 3, 4 e mezzo perfetto potrebbe essere che ci signano delle piccole differenze a seconda del regolatore diciamo che da 3 giri e mezzo a 4 e mezzo siete perfetti a questo punto siamo pronti per fare fuoco e fiamme venite con me passiamo all'accensione è importantissimo che vi dodiate dei giusti strumenti in questo caso va benissimo o un accendino lungo come questo qui oppure un accendino di fiamma tipo questo qui io preferisco questo ma per farvi capire useremo questo qui per il video partite con la fiamma già accesa e posizionate l'accendino a metà del bruciatore in questo punto dopodiché potete iniziare ad aprire lentamente il rubinetto del gas quando il forno si accende siamo finalmente pronti per sfornare le nostre pizze ragazzi in circa 20-25 minuti portiamo il forno a 450 gradi sono delle temperature folli per queste tempistiche anche se secondo me per una cottura perfetta la temperatura del suolo deve essere intorno ai 480 anche 490 gradi questo proprio grazie alle caratteristiche di inerzia termica del biscotto di casa fulla eccolo qua il nostro impasto un impasto diretto fatto con la nostra farina mediterranea impasto semplicissimo al 70% di idratazione andiamo a prendere una pagnotta dalla cassetta voglio superamente emozionato abbiamo fatto dopo anni finalmente la nostra farina abbiamo il nostro forno adesso vi faccio vedere che razza di prodotto esce da questo forno voglio il panetto alla consistenza perfetta per fare la nostra pizza fortunatamente pure oggi mi è venuto un buon impasto dai l'unica cosa che mi dispiace voglio è che all'interno di un video non riesci a passare quanto io sia emozionato in questo momento perché è un po' il raggiungimento di tutti i nostri traguardi abbiamo una linea di prodotti fatti da noi una linea di prodotti validi abbiamo una farina che è fantastica abbiamo un forno che è alla portata di tutti quanti e niente voglio sono contento tutto questo soltanto per dirvi che sono contentissimo ed anche per l'infornata l'azienda Forni Masanielli ha iniziato a produrre le sue pale queste qui sono pale perfette perché sono innanzitutto il materiale di cui è fatto vi permette di far scivolare benissimo la pizza e in più sono pale da 33 non sono pale da 30 come trovate di solito in giro quindi potete fare una pizza molto grande andiamo in forno meglio la volta del forno permette di far ruotare il calore intorno alla pizza quindi abbiamo una cottura quasi del tutto omogenea intorno a tutto il forno l'unica parte ovviamente un po' più fredda è la parte che sporge verso la bocca del forno perché ovviamente davanti non è corbentata ma il calore riesce a girare lungo tutto il nostro forno in più rispetto ad altri forni questo forno qua ha un bruciatore che è posto a livello del piano della pietra e questo ci permette di non creare una corona bianca intorno alla nostra pizza vedete in questa parte qua la pizza già inizia a colorare nonostante che sia la parte più lontana dalla fiamma questo appunto per come è studiata la volta al di là delle campane quello che volevo dirvi è che il rubinetto del gas come è fatto ci permette di avere una grandissima escursione termica quindi possiamo cuocere la pizza molto dolcemente come in questo caso con una cottura di due minuti oppure la prossima che vi farò vedere la cuoceremo alla temperatura dell'inferno mentre vi faccio vedere la cottura della prossima pizza violentissima voglio parlarvi di com'è nata questa collaborazione ok la prima cosa che faccio è abbassarmi leggermente la fiamma com'è nata questa collaborazione inizialmente voglio devo dire la verità avevo dei dubbi sulla qualità del forno vista soprattutto l'economicità costava troppo poco i dubbi li ho espressi pubblicamente e questo mi ha portato ad un litigio col proprietario che però si è offerto è stato gentilissimo di venire a casa per farmi provare il forno con le sue direttive grazie a peroglio ho capito subito le potenzialità del forno soprattutto relativi al prezzo i materiali comunque sono ottimi stiamo parlando comunque di un forno costruito completamente in acciaio 100% made in italy è un forno sicuro e dal mio punto di vista è il migliore per qualità prezzo top veramente mi sono innamorato subito della qualità di cottura insomma io appena l'ho vista dal vivo voi lo state vedendo nei video in questo momento in quel momento ho capito che questo prodotto dovevate conoscerlo anche voi comunque nei prossimi giorni esce una recensione completa con tutti i pro e di contro ci siamo quasi veramente pochissimi secondi per la cottura di questa pizza ragazzi come potete vedere grazie a come posto il bruciatore riusciamo ad ottenere una cottura uniforme sul tutto il cornicione ci sono alcuni competitor che hanno il bruciatore posto molto più in alto e questo fa uscire una corona bianca intorno questo forno grazie a come posto il bruciatore non lo fa ultimi secondi eccola qua pronta perfetta riusciamo pure ad avere un bel crunch sul cornicione perfetto che è quello che ricerchio in una pizza contemporanea e andiamo ad aprire il cornicione e vediamo come è venuto si è svuotato bene bello asciutto andiamo ad aprire pure di qua come potete vedere si è sviluppato lungo tutta quanta la pizza la cottura sotto è bella leopardata come deve essere guarda qui la sfoglia di questo cornicione sembra un croissant cottura perfetta sia sotto che sopra finalmente posso assaggiare la prima pizza completamente targata a malati di pizza cottura praticamente perfetta sotto cornicione sviluppatissimo lungo tutta quanta la sezione sono contentissimo voglio ne facciamo un'altra voglio quest'ultima pizza la voglio fare un pochino più napoletana un pochino più verace cottura un po' più forte cornicione meno pronunciato e cottura veramente velocissima voglio vedere che cosa è in grado di fare nel corso degli anni voglio il nostro canale è crescito tantissimo e finalmente è arrivato il momento per far si che malati di pizza diventi una realtà anche nella vita reale anche nella vostra vita di tutti i giorni lo abbiamo già fatto con la nostra farina la mediterranea senza dirvi troppo lo stiamo per fare anche nei prossimi mesi perché stiamo per aprire finalmente una nostra pizzeria però adesso è arrivato il momento del forno ecco così bella piena proprio di basilico voglio la verace senza formaggio non è verace andiamo belli grandi sulla pala la voglio quasi quadrata questa pizza andiamo in forno con questo forno riusciamo pure a fare pizze molto grandi perché appunto la pietra è 40x40 quindi è molto grande andiamo a dare una prima girata eccoci qua guardate qui che bella voglio guardate qua che spettacolo questa pizza sembra la pizza di Michele a forcilla guardate qui che bella è gigante guardate qui il nostro piatto e la nostra pizza sembra letteralmente la pizza di Michele è morbidissima si piega che è una bellezza cottura super violenta siamo sotto al minuto come tempistiche ma sono troppo contento allora la cosa che mi piace di più è la versatilità perché appunto riesce ad essere sia violento e sia delicato a seconda delle situazioni a come ci serve guardate qui questa pizza che spettacolo nonostante che sia una pizza in ruota di carro come vedete pure questa qua ha sviluppato tantissimo il cornicione in pratica è trasparente guardate la cottura sotto e guardate come sta su morbidissima sembra che stiamo a Napoli il prezzo di questo prodotto è attualmente di 270 euro ma solo per i primi 100 pezzi in più voglio i primi 100 fortunati che prenderanno questo forno oltre allo sconto riceveranno un accessorio a scelta direttamente dalla pagina ufficiale del sito ci sono le opzioni di prodotto e potete scegliere o la mezzaluna oppure lo sportello lo sportello solitamente non va utilizzato con fiamma accesa serve soltanto per le cotture indirette quindi nel caso in cui voi fate la pizza napoletana l'attrezzo che vi consiglio di più l'optional che vi consiglio di più è questa mezzaluna che ci permette di aumentare la superficie del piano di cottura noi possiamo completare la cottura della pizza a bocca di forno e questo ci permette di ottenere una cottura più dolce, più delicata già così cuoce perfettamente questo qui è una cosa che va a completare il forno Babbo Agliu, grazie di aver visto questo video ci vediamo settimana prossima con il video completo su questo forno e ne do Agliu prossimamente aspettatevi veramente i fuori d'artificio perché stiamo facendo qualsiasi cosa intanto però vi dico che vi voglio bene e ci vediamo in un prossimo video ciao Agliu